Vuoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da partima su fornet? Molto semplice, iscriviti al canale e attivate la campanella, lascia un bel like e condividi con tutti quanti i tuoi amici Ed infine mandami la richiesta sui miei accanto dove faccio i regali In questo modo avrete le possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da partima su fornet Ed inoltre se vuoi puoi anche inserire nel negozio oggetti il mio codice creatore E mandami la foto, taggami su instagram così ti andrò a ripostare Benvenuti in questo nuovo video Ebbene se all'interno di questo video avete ben potuto aggiornare dal titolo Andremo proprio a vedere delle nuovissime ricompense gratuite Disponibile tramite il nuovo aggiornamento che abbiamo ricevuto questa settimana qui all'interno di fornet Abbiamo davvero un bel po' di ricompense gratuite e molto altro Quindi mi raccomando guardate il video dall'inizio alla fine per venirle a scoprire tutte Proveni a cominciare mi raccomando come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati ogni singolo giorno Su tutti quanti i video che escono qui all'interno del canale E tutti quanti gli aggiornamenti e news che avvengono qui all'interno di fornet E soprattutto cosa non meno importante condividete con tutti quanti i vostri amici Così anche loro vengono a scoprire queste ricompense gratuite Disponibili tramite il nuovo aggiornamento qui all'interno di fornet Quindi partiamo subito senza perderci in chiacchiere Partiamo appunto vedendo tutte quante queste nuovissime ricompense gratuite Che sono disponibili proprio dallo scorso aggiornamento La patch 17.20 che abbiamo ricevuto questo martedì Quindi l'aggiornamento che ha portato anche un bel po' di novità qui all'interno del gioco Partiamo subitissimo dalle primissime ricompense Perché tramite questo nuovo aggiornamento Sono stati introdotti all'interno del gioco Un sacco di novissimi stili gratuiti per le skin Infatti ecco qui dei stili gratuiti che sono stati aggiunti E si è aggiunto uno stile che è stato dato a tutti quanti i possessori della skin di Beard Dovrebbe chiamarsi in questo modo Quindi la skin della golfista comunque Ed è uno stile molto molto bello Poi è stato anche implementato quest'altro stile che vedete in questo momento a schermo Che non è male di quest'altra skin E tutti quanti questi stili sono stati forniti in modo gratuito A tutte le persone che posseggono queste skin Ovviamente anche io ho ricevuto quello di Beard Perché possego la skin di questa golfista È comunque uno stile molto molto bello Oltre a questi due stili sono stati anche introdotti degli altri stili aggiuntivi Questi non sono nuovi Però in pratica questi due stili che vedete in questo momento a schermo Prima si potevano sbloccare tramite delle sfide Adesso invece non si sbloccheranno più tramite sfide Bensì verranno dati gratuitamente a tutti i possessori di queste due skin Quindi non si arriverà più a completare le loro sfide Che in pratica una volta che prendevi queste skin Uscivano delle sfide E completandole in una particolare modalità Potevi proprio appunto ottenere questi stili viola Adesso invece non è così tramite lo scorso aggiornamento Appena avrai queste skin cioè se possiede queste skin Nell'armadietto Senza completare le loro missioni Ti verranno date automaticamente Fatemi sapere se voi li possedete Passiamo avanti perché tramite questo nuovo aggiornamento Nei file di gioco Ovviamente sono usciti alcuni dettagli Inerenti all'evento finale C'è già uscito un video all'interno del canale E comunque però tramite questi dettagli di questo evento Questa va a riportare il leaker ai Firemonkey Qualunque sia l'evento chiamato Buffett Perché dovrebbe esserci un evento che nei file di gioco Viene chiamato Buffett Scritto grifato Avrà delle sfide da affrontare Infatti un evento dovrebbe arrivare Quelli all'interno di Fortnite Dovrebbero anche esserci delle sfide Che probabilmente ci daranno delle ricompense gratuite Quindi appunto arriverà questo nuovissimo evento Non si sa quando Probabilmente nelle prossime settimane E tramite questo evento andremo a ricevere delle ricompense gratuite Infatti i tag delle sfide menzionano Porta manifesto Ancora non sappiamo appunto che sfide potrebbero essere Non sappiamo neanche in realtà questo evento Di cosa andrà a trattare Però siamo sicuri che questo evento presente nei file di gioco Avrà anche delle sfide Che sicuramente porterà delle ricompense gratuite O dei punti esperienza Passiamo avanti alle prossime ricompense Perché tramite la patch 17.20 Siamo venuti a conoscenza Di altre nuovissime ricompense Dei drop di Twitch CCFN Infatti pochissimi mesi fa Pochissime settimane fa Erano disponibili delle altre ricompense Che vi riportai tramite un altro video Ma tramite lo scorso aggiornamento Sono uscite queste altre ricompense gratuite Appunto per queste CCFN su Twitch Infatti ecco qui le ricompense Sono ben 4 La prima è uno spray Poi dopo c'è una schermata di caricamento Un emoticon E infine lo zanetto numero 1 Questa volta in versione verde Quindi queste ricompense Si potranno ottenere Nelle prossime settimane Andando a guardare Le live su Twitch Che drop abilitati Quindi comunque Sono delle ricompense Molto molto belle Questa season Ne sono uscite addirittura Due diverse Di ricompense Drop CCFN Comunque sono molto interessanti Si potranno sbloccare In modo gratuito Dobbiamo solamente aspettare Che inizino le trasmissioni Su Twitch Non si sa ancora Quando inizieranno Sicuramente Nelle prossime settimane O a giorni Dovrebbero esserci Queste trasmissioni Su Twitch Quindi basta andare A collegare Il nostro account Di Epic Al nostro account Di Twitch Dopodiché guardare 30 minuti O poco di più Di una live Di uno streamer Quei drop abilitati Su Twitch E dopodiché Ci verranno date Queste ricompense Gratis Sul nostro account Sicuramente Tantissimi di voi Già avranno fatto Tantissime volte Questi passaggi Perché queste ricompense Arrivano ogni season E queste sono Le nuovissime ricompense Travelate tramite Lo scorso Aggiornamento Poi ovviamente Saranno maggiori dettagli Su quando inizieranno Le trasmissioni Quindi rimanete Aggiornati All'interno Del canale Passiamo avanti Perché Appunto Tramite il nuovo Aggiornamento Ovviamente Come ben sapete È iniziato anche Il nuovissimo Evento Arcobaleno Reale Dovrebbe chiamarsi In questo modo Infatti Andiamo subitissimo A leggere Perché questo evento Ha portato anche Un bel po' Di ricompense Gratis per tutti E incominciamo A leggere L'articolo Fatto da Epic Arcobaleno Reale È qui Dal team di Fornet Sul bus Della battaglia C'è sempre Posto per tutti E questa settimana Festeggeremo Con la fantastica Community LGBTQIA Di Fornet Questa settimana Scopri tutte le novità In gioco E non solo Con il debutto Di arcobaleno Reale Infatti È iniziato proprio Questo nuovissimo Evento Per supportare La comunità LGBTQIA E comunque Sono state anche Implementate Delle ricompense Gratuiti All'interno Delle negozio Oggetti Andiamo subitissimo A leggere Quali ricompense Sono state Implementate Infatti Esprimiti In libertà Con degli oggetti Gratuiti Colorati Disponibile Questa settimana Nel negozio Oggetti I giocatori Potranno Sostenere La diversità Su Fornet Con tantissimi Oggetti Gratis Tra cui 4 spray Arcobaleno Reale Cuore Sgargiante Lama Sgargiante Bughi Sgargiante Stile Sgargiante Poi otterremo anche la copertura Solo arcobaleni Le mot Un bel inchino Quindi in pratica Un bel po' di ricompense Sono state rilasciate All'interno Del negozio Oggetti Già nei passati giorni Quindi se ancora Non l'avete fatto Andate a riscattare Queste altre ricompense Sono completamente gratuite Di questo nuovissimo evento Arcobaleno Reale Quindi queste ricompense Sono nel negozio Oggetti A 0 V-Bucks Fatemi sapere Se voi le avete Già riscattate Comunque sono un bel po' Di ricompense Gratuite Per questo Nuovissimo Evento Quindi questo è tutto Per questo video Fatemi sapere Qui sotto All'interno Dei commenti Cosa ne pensate Se avete riscattato Tutte queste ricompense Che appunto Abbiamo citato All'interno Di questo video Anche se alcune Non sono disponibili Lo saranno Nei prossimi giorni Barra settimane Fatemi sapere Cosa pensate Se vi piacciono Queste nuovissime Ricompense gratuite Che sono state svelate Tramite il nuovo Aggiornamento 17.20 Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se così vi ricordo Di lasciare un bel like Per supportare il canale Iscrivetevi E attivate la campanella Per rimanere sempre Aggiornati Su questi tipi di video E soprattutto Condividete Con tutti quanti I vostri amici Fate sapere a tutti loro Tutte quante queste Ricompense Gratuite Da riscattare All'interno Di Fortnite Del nuovo Aggiornamento In questo momento A schermo Sarete anche vedendo Due video Quindi cliccate Su quello che vi interessa O preferite di più E noi ci vediamo All'interno Di uno di questi video Ciao Ciao Ciao